a saperlo la ricetta su come si fanno i fin di successo c'era solo dei laurentis e se la tiene stretta perché nel resto dell'anno diciamo fuori dalla dalla lotta natalizia in cui comunque si moltiplicano gli spettatori si moltiplicano i biglietti la metà dei biglietti italiani si vendono in quei 20 giorni là è difficile per tutti cioè devi individuare un tema largamente condiviso e trattarlo con un tono in genere leggero ma non superficiale poi ci sono casi differenti cioè l'ultimo film di muccino gabriele che era un buffo che adesso bisogna specificare l'ultimo film di gabriele muccino era un film molto drammatico insomma invece ha fatto un grandissimo un grandissimo incasso e ci sono eccezioni insomma però diciamo i grandi incassi italiani alla fine si fanno con le commedie cioè non c'è dubbio quando vedi le classifiche a fine anno le prime cinque sono commedie quest'anno finora le prime quattro sono commedie insomma io credo che ci sia una cosa cioè il pubblico italiano non è che disaffezionato ai generi poi va a vedere il signore degli anelli piuttosto che un thriller americano per tanti anni i thriller italiani o comunque i film di genere italiano sono stati un po deludenti e il pubblico si è un po' disaffezionato le commedie nel bene o nel male quella riuscita meglio quella riuscita a me peggio quella più volgare quella meno volgare hanno mantenuto uno standard diciamo che garantiva che i sette euro erano ben spesi se volevi quel tipo di cinema mentre a volte in altri generi prendevi delle bufale micidiali mentre gli americani fanno un po' da garanti cioè c'è un film nuovo con Brad Pitt è un thriller ma sarà buono se ha accettato Brad Pitt insomma mi fido di uscire di casa a cercare il parcheggio prendere la pioggia e pagare sette euro sì c'è un po' meno cinismo un po' meno cattiveria se vogliamo perché a me non mi viene naturale probabilmente e quindi lo sentirei forzato e in fondo i tre film che ho fatto da regista erano tre favole che raccontavo non avevo erano ambientate in italia ma non necessariamente fortemente ambientate nel senso di non c'è accenno di politica non c'è accenno di nulla di quello in cui qualche volta invece i maestri della commedia italiana mettevano a me non mi viene naturale non so non c'è una scelta strategica no c'è un po' è un po' condivisa dagli altri che lavorano alla commedia cioè di non affondare troppo di non affondare troppo la lama cioè anche Veronesi piuttosto che Muccino quando la faceva insomma commedia non erano così corrosivi quanto lo erano insomma Monicelli per esempio il notte prima degli esami 2 dove avevo fatto proprio un ritratto dei giovani di oggi li avevo ritratti un po' superficiali un po' un po' dediti diciamo più a sesso droga e rock and roll che a un impegno civile che magari invece negli anni 70 avevano insomma i diciottenni diciamo quello era più che altro per fare uno specchio di quello che a me sembrava avendoli frequentato molto per notte prima degli esami insomma i diciottenni perché mio malgrado ero diventato un mentore degli esami di maturità insomma sono andato a fare incontri in tutte le scuole d'Italia e io che proprio io che odiavo il liceo insomma proprio una roba paradossale e avevo imparato a conoscerli e avevo cercato di ritrarli come sembravano a me poi insomma ognuno li rappresenta come col suo col suo filtro e non so adesso per esempio sono curiosissimo di vedere i mostri oggi di Oldoini perché mi intriga vedere come un autore che stimo molto come come Enrico abbia ritratto la società di oggi e inevitabilmente si confronta con i mitici insomma mostri degli anni degli anni 60. Gli italiani sono molto più negativi sono molto più mostruosi gli italiani che rappresentiamo nei film di Natale sono quelli che ti fanno simpatia perché in Italia purtroppo e questo basta vedere insomma la nostra classe politica cioè se uno è un po' delinquente ma non troppo cioè fa simpatia cosa che è molto inquietante a Natale escono due grossi blockbuster italiani diciamo in genere uno di Medusa e uno di De Laurentiis doveva uscire al posto di uno dei due se invece usciva come terzo incomodo sarebbe uscito con le ossa rotte comunque non era detto che avrebbe fatto i soldi che sta facendo fuori insomma mentre se invece uscisse come alternativa romantica comico romantica c'è un pubblico a Natale insomma per per il film che fa ridere ma fa anche sognare ma nella commedia hanno proprio un modo differente io ci sono passato adesso in prima linea perché l'estate scorsa hanno fatto il remake di notte prima degli esami e hanno preso la sceneggiatura e hanno fatto un adattamento francese e l'adattamento francese consisteva sostanzialmente nel togliere tutte le cose comiche tutte le gag e rendere i protagonisti un po' meno sfigati era un film che non faceva più ridere che perdeva quindi uno dei due fattori principali del film manteneva la parte romantica la parte col professore eccetera ma diciamo la gogliardia tra ragazzi era totalmente persa perché questi ragazzi era un po più fichi erano tutti belli avevano fatto un film francese cioè quella quel tanto di paperinesco che avevo messo nel personaggio di vaporidis cioè è quello sfigato che mi deve stare simpatico era completamente perso era carino bello e un pochino più affascinante e quindi a me italiano stava molto meno simpatico